Salve ragazzi, allora, una bella notizia ironica, in realtà è una pessima notizia, pare che la FIGC, a quanto ho letto, io spero che siano fake news, pare che voglia infliggere una multa a quei giocatori che hanno fatto quel video sul nostro del Milan, che hanno fatto sul Pullman quei cori anti Juventus, o addirittura vogliono dare delle squalifiche ai giocatori. Non a caso quando c'è il derby di Milano, e guarda, quando quell'idiota di Di Marco cantava contro il Milan, cantava contro a San Siro dopo la partita, si è messo a cantare i cori contro di noi per sfotterci dopo una partita, dopo la semifinale di Champions League, non solo ti metti a fare il, cioè lui non gli fa niente, ma addirittura indaghi per questo piccolo coro. Ah, quando succede al Milan va bene, va malissimo, e quando succede quando lo fa l'Inter tutto bene. La classica Inter impunita dalle regole, che già con tutti questi debiti io non avresti neanche partecipare alla Serie A, ma va bene. Cioè la classica Inter, impunita, sempre piena di simulazioni tipo Barella, tipo Lautaro, tipo questi qua, e addirittura, addirittura vuoi squalificare i nostri. Così ecco i giocatori che stranamente sarebbero in rischio squalifica. Leao, Teo, Adli, e probabilmente anche, come si chiama, chi è l'altro? Vabbè, uno ha un panchinaro, forse, non lo so, Florenzi, non mi ricordo chi, comunque è un panchinaro. Posso capire Florenzi, ma cavoli, senza Teo, Leao e Adli, il Milan parte con già due punti di svantaggio con l'Inter. Già loro sono forti quanto noi, anzi, secondo me, non dico di più, però dietro hanno anche qualcosa di più sulle fasce. Cioè, però il Milan nelle fasce offensive in attacco, insomma, è migliore di loro, loro sono migliori di noi sulle fasce. Cioè, è equilibrato sto derby, senza contare ciò che potrebbe succedere facendo corna con la nazionale. Cioè, tu mi vieni a dire, cioè non dire, tu mi vieni a sapere che voi vorreste squalificare i nostri giocatori per questo coro di merda. Ma lo sapete cosa ci ha detto Di Marco, dopo quel coro in Champions League? Ha detto, le cose della Curva Nord, non picchi mai, non scendi mai in battaglia. A parte che noi in campo scendiamo in battaglia, caro Di Marco. Ah, e battere il Milan in semifinali di Champions League non significa di scrivere la storia, perché il Milan vi ha battuti e ha vinto la Coppa. Voi ci avete battuto, ma non avete vinto la Coppa. Quindi, bello mio, Milano resterà sempre rosso-nera. Non è mai stata nera-azzurra, è sempre rosso-nera Milano. Sempre rosso-nera. Chi ti fa dire la scuola più tifata a Milano? Guarda i sondaggi e tutte le cose. Il Milan. Cioè, gli interisti, siete una razza veramente protetta, proprio che fa rabbia. Protetta da tutti quanti, impunita, che può dire quello che vuole. E ora mi ascolterete. Fate veramente pena. Vi lamentate degli altri. E intanto, ieri, con la Fiorentina, sì, avete vinto 4-0, bravissimi ieri là, però mancava un rigore sull'1-0 per la Fiorentina. Col Cagliari, sempre sull'1-0 per voi, un altro rigore. E vi lamentate di quelli che hanno dato al Milan. Cocchi belli. Il Milan gli hanno dato quel rigore col Torino sull'1-1, quando potevamo già iniziare a fare il secondo gol, perché da come si era messa la partita, l'havremmo comunque fatto un gol. Cioè, ma vi rendete conto che cazzo state dicendo? Cioè, veramente, guardate, io certe volte penso, ma come lo fate a trovare il coraggio per dire certe stronzate? Cioè, io non lo so, guardate, veramente. Non lo so. Dovrebbero darvi le pizze in faccia e basta a voi interisti. Cioè, siete veramente uno più coglione dell'altro, i tifosi. Per quanto riguarda Gravina, continua a proteggere i tuoi interisti. Va, va, va. Durante il derby facci pure perdere quei quattro giocatori, così lo perdiamo e la tua amata Inter indebitata continua a stare in alto. Cosa che non merita affatto. Perché con le squadre che si è scontrata adesso, non merita affatto di stare prima all'Inter. O noi, o al massimo, o per i punti, o al massimo per prestazioni, un po' se lo sarebbe meritato pure i napoletani, però hanno perso quella laccia per questo piccolo passo falso. Noi i giornalisti li hanno tirati fuori dalla corsa dello scudo, come se tre giornate bastassero a definire il campione d'Italia. Ma vabbè. Comunque, voi interisti avete avuto tutto nella vostra vita. Aiuti arbitrali, non potete fare mercato invece l'avete fatto nonostante i debiti, e adesso avete anche un gione di Champions facile. E non merita a dire però anche tu l'anno scorso no. Io l'anno scorso avevo il Chelsea e il Salzburgo. La Dinamo Zagabbi è ok, ma non sono squadre materasso quelle. Voi invece avete certe squadre, a parte il Benfica, avete il Salzburgo come a noi però indebolita, che non ha più Locaforo, non ha più i giocatori che aveva l'anno scorso. E avete una squadra materasso, il Miam non aveva di squadre materasso l'anno scorso. Cioè, anche il più facile aveva comunque una Big. Voi invece non ci avete nessuno, il Benfica ma non è una Big, non diciamo cazzate. Cioè, veramente, guarda, voi interisti avete un culo, ma vi chiameranno sicuramente la regina d'Europa, tra italiane, perché sicuramente andrete benissimo. Mentre invece noi saremmo quelli da scartare solo perché ci sono scontrati con squadre più difficili. Cioè, il PSG e il Borussia Dortmund vuoi mettere? E comunque il Mian era in terza fascia, non puoi metterti a dire, però voi eravate in fascia inferiore a voi. Cioè, ragazzi, voi avete beccato una delle prime fasce che avete beccato il Benfica, che manco secondo me lo era, forse era di un'altra fascia. Cioè, avete avuto un culo incredibile voi, veramente, l'Inter un culo assurdo ha avuto. Cioè, io non lo so veramente come minchia si fanno certe volte si sorteggi. Comunque, vabbè, ormai è andata. Quel che voglio dire in conclusione è vergogna, Garabina. Vergogna tu e la tua banda di mafiosi. Tiè, squalificate anche meggia che ci siamo, anzi, ecco qua un altro bel regalino. Squalificate pure meggia che ci siamo.